Novità in casa del Sicilia.it Marianna Grillo va via e lascia la direzione del Sicilia.it Marianna sicuramente sta facendo una scelta importante io lo so e sta facendo delle cose altrettanto importanti quindi vuol dire che il Sicilia.it continua a portare fortuna e dal primo di giugno il nuovo direttore del Sicilia.it e qui accanto a me è Giuseppe Bianca professionista di questo mondo da decenni sembra giovane ma non lo è però è un grande acquisto per il Sicilia.it Grazie Maurizio, grazie alla squadra del Sicilia.it sono stati dei mesi bellissimi, molto difficili però sono stati mesi in cui abbiamo raggiunto risultati importanti un ringraziamento va sicuramente a te un ringraziamento va alla redazione, a tutte le aree che operano all'interno del Sicilia.it dall'area tecnica all'area social alla segreteria di redazione alla parte amministrativa senza di loro non saremmo riusciti a raggiungere questi importanti traguardi adesso ci sono nuove sfide Giuseppe Bianca è sicuramente il direttore responsabile che serve a questa realtà, a questa famiglia a cui io do un grosso in bocca al lupo Giuseppe Salve e ben trovati a lettori del Sicilia.it per me un gradito e un piacevole ritorno torneremo a confrontarci con il racconto della politica ma non soltanto con la cronaca ma soprattutto con una narrazione interattiva su contenuti, video e tante tante notizie che speriamo possano essere la base attraverso cui dare a voi il massimo del nostro impegno grazie a Maurizio Scaglione e a Marianna Grillo e c'è tanto tempo per fornire un po' quella che sarà la nostra visione di giornale e cercheremo di farlo da subito Grazie a tutti Grazie a tutti